Dopo il nulla di fatto al Mise, con la Gindal che ascolta in videoconferenza i sindacati nazionali e locali, chiede una gran voce che il 24 sia il giorno della svolta, con i chiarimenti dovuti e necessari. Prosegue intanto il presidio degli operai, che non mollano e pretendono risposte per salvaguardare i circa 300 posti di lavoro, trassunti ed indotto. Sulla vicenda, la deputata Anna Bilotti e il consigliere regionale Michele Camarano accusano è chiara la strategia messa in atto dalla Gindal, ovvero dar vita a politiche aziendali finalizzate a giustificare l'inevitabile chiusura dello stabilimento di Battipaglia, con la perdita dei posti di lavoro per oltre 80 persone. Entrano nel merito. Il colosso indiano non ha spiegato le ragioni di un'ingiustificabile operazione che ha comportato la dismissione di ordini e commesse. Ne sono state prese in alcuna considerazione le raccomandazioni del nostro ministro a riattivare l'impianto di Battipaglia. Tutto è rinviato giovedì 24 gennaio, quando la Gindal sarà chiamata a presentare un piano industriale e Bilotti e Camarano concludono. Auspichiamo non sia l'ennesimo blef, ma che con il sostegno del ministero possa garantire un futuro a una realtà produttiva storica e importante per il tessuto produttivo del territorio e dia garanzie occupazionali ai lavoratori.